I carabinieri della stazione di Melito Portosalvo hanno posto agli arresti domiciliari un uomo di 51 anni, residente a Roccaforte del Greco ma di fatto domiciliato nel comune Reggino, perché continuava a perseguitare un 57enne, malgrado nei suoi confronti fosse stata emessa a maggio del 2022, una misura cautelare che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla persona affesa e ai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima, con la prescrizione di mantenere almeno 500 metri di distanza e di astenersi da qualsiasi tipo di comunicazione. Il 51enne, nonostante tutto, ha continuato a molestare la vittima con atti di violenza fisica e pedinandolo con la propria autovettura in diverse occasioni. L'arrestato spesso aveva un comportamento intimidatorio con guardi insistenti e minacci, alcune delle quali erano rivolte al 57enne col gesto simbolico di tagliargli la gola. Queste azioni hanno causato ansia e preoccupazioni nella vittima per la paura che potesse succedere qualcosa a lui o a sua moglie, tanto da dover ricorrere in diverse occasioni alle cure dei sanitari. Da qui il nuovo arresto.